perché mi sarei sentito sempre male. Io ho vissuto esperienze all'esterno, come diceva Deborah, che forse non ho nemmeno salutato e che ringrazio e seguo nei programmi che fanno, di divulgazione del territorio perché la cucina è territorio. E allora, dicevo, dobbiamo essere coscienti, come dicevo l'altra sera, di quello che è stato il Cilento. Nel Cilento si sono prodotti, grazie a quell'elite di pensiero del tempo, dei moti che ci hanno dato la libertà, non subito ma negli anni, quei signori che venivano visti appunto come signori, come galantuomini, si sono mobilitati e sono stati incatenati, messi ai ferri, per i valori di fratellanza, libertà e solidarietà. Sto parlando dei moti carbonari. Duecento anni fa c'era gente che pur di lottare per gli altri e consapevoli di essere degli avvantaggiati, di avere delle prerogative che gli altri non avevano, si sono messi in discussione, sono saliti sul patibolo a testa alta ma per la libertà. Noi siamo gli eredi delle persone che hanno creduto in quei valori, coscienti della forza che il Cilento ha dato all'animo, alla libertà. I moti sono partiti pure nel 48 dal Cilento, la storia è importante. Nel 21 Nola è il Cilento. Noi siamo gli eredi, dobbiamo sentirci coscienti e fermamente convinti di quello che stiamo facendo. Perché è un momento epocale per Agropoli. Ritrovare la dignità, ritrovare il senso di appartenenza, ritrovare lo spirito di comunità che in tutti questi anni si è perso e questo si deve fare col coraggio e con la coscienza, di essere diversi, perché non siamo tutti uguali. In politica non siamo tutti uguali. C'è chi usa un metodo e chi usa un altro metodo. Noi siamo per la linearità, per la correttezza, per la promessa solo dell'impegno. Questo siamo noi, questo è Raffaele Pesce e questi sono gli amici di Raffaele Pesce, perché noi siamo un gruppo che crede molto nell'affiatamento, nel lavoro anche manuale fatto insieme. E questo dovrebbe essere la giusta ripartenza in un comune, il sentirsi gruppo. Siamo tutti un gruppo. Quando io dico il mio partito Agropoli ci credo fermamente, lo sento come mi sento in dovere di rappresentarlo, come mi sento in dovere a 18 anni di rappresentare l'istituto, il liceo classico. Con le discussioni che mi hanno fatto crescere, con il preside Cirendo, i suoi insegnamenti, altra persona mi ha formato e che è fondamentale nella vita di tanti di noi è stata. Così come i miei professori, il professore Ragone, il professore Silvia, la professoressa Chiagano, sono persone che mi hanno formato insieme a Peppe Tarallo. È fondamentale, bisogna ritornare a parlare con i ragazzi anche di politica. Non farmi allontanare, loro purtroppo hanno questa immagine della politica. Noi, e io sono contento, abbiamo la fortuna e ho la fortuna di aver conosciuto in questi mesi dei ragazzi che sono il futuro di Agropoli, perché hanno creduto in me, nelle potenzialità di questo progetto e non mi hanno chiesto niente. Non hanno chiesto ma un posto per me c'è, che cosa c'è, addirittura il servizio civile per campagna elettorale. Ma no, questi sono i ragazzi che devono essere il futuro di Agropoli, quelli che creano ancora negli ideali, nelle idee, nelle possibilità, che studiano, che lavorano e che sono parte attiva nella società. Questo è il futuro che dobbiamo creare. Non abbrutirli in altri metodi, nei metodi della gestione del potere. E basta. Sono là perché la vincono. No! Se sei un ragazzo e ragioni così non sei più un ragazzo. Non hai più speranze. Non sei più un giovane. E molto spesso mi è capitato di... perché la gioventù non è l'anagrafe. Amici, ottantenni o quasi, che sono più giovani di quei giovani, più giovani di quelle persone che hanno anche amministrato il Paese soltanto basando i loro interventi su piccoli interessi. Su piccoli come grandi interessi.